Fai un bel respiro e poi espira. Ok, cerca di calmarti. Respira piano. Ok, ce la posso fare. Ups! Che cos'è quell'odore? Accidenti! Ti rinfresco. Forse dovremmo andare via. Ma che mi è successo? Ok, scegliamo un nome allo stesso tempo. Ho scelto Vicky. No, Sofia è più bello. No, Vicky. Sofia. È Vicky. Sofia. Ho detto Vicky! Sarà Vicky, giusto? Certo, Vicky. Devo mescolare per bene questa roba. Adesso le metto sul tavolo. Ecco i nomi. Ok, che mi dici di Bella? Lana mi piace di più. Cosa? Ma Bella è la scelta migliore. No. Bella significa bella, guarda. Ah, sul serio? Che mi dici di questo? Prenderò questa. Ed eccoti qui. Salve, signora. È pronta? Hai messo gli occhiali? Siamo pronti. Sì, Lana, sono d'accordo con te. Salve, si accomodi. Mi scusi, può alzare un pochino la temperatura? Oh, ma certo. Salve, non vedo l'ora di sedermi. Come fa caldo qui. Signore, può fare qualcosa per questa temperatura? Certo, nessun problema. No, fa troppo freddo. Può aggiustarlo di nuovo? Molto meglio. Ma io sto sudando. Più caldo, più freddo. Più caldo, no, più freddo. Io me ne vado. Che esagerazione. Wow, che dormita. Vediamo, che cosa potrei mangiare? Oh, degli avanzi buonissimi. Li riscaldo nel microonde. E adesso? Devo solo aspettare. Ma il microonde non funziona. Dai, devi funzionare. Che delusione. Questa pizza è congelata. Non sono riuscita a scaldarla. No, è troppo fredda per riuscire a mangiarla. E sì. Ecco fatto. Alito caldo in arrivo. Che buona, ci voleva proprio. Tesoro, hai fame anche tu? Io sì. Troverò qualcosa da mangiare. Oh, che mi dici dello yogurt alla fragola? Sarà buonissimo. Ok, dov'è il cucchiaino? Proprio lui. Ma non è ciò che volevo. Ecco, il gelato è ciò che volevo. Prendiamo questo yogurt un po' più freddo. Sì, adesso ho un bel yogurt gelato su stecco. Molto meglio. Delizioso. Oh, ho quasi dimenticato di svoltare. Ehi, mi serve la tua opinione. Questo abito in pizzo? Oppure... Vabbè, tesoro, puoi aiutarmi? Oh, non mi puoi ignorare, sai? Ah, il controller! Ma è caldissimo! Mi bruciano le mani. Mi dai retta adesso? Quale vestito? Grazie, sei così dolce. Oh, grazie anche tu. Ok, vado a cambiarmi. Ah, mi fa sentire così caldo. Ehi, tesoro. Oh, ciao, com'è andata la tua giornata? Mi sei mancato. Ah, beh, non è andata così male. Sono contenta. Accidenti, ho i piedi gonfi e mi fanno malissimo. Cerca di tenerli sempre in su. Mi fai un massaggio, ti prego? Sul serio? A me servirebbe un massaggio. Aspetta, ho un'idea. Ehi, metti giù quel telefono! Le mie gambe fanno male, mi serve un massaggio! Adesso va molto meglio. Ne avevo proprio bisogno. Oh, accidenti! Credo sia ora! Emergenza! È un'emergenza! Ops! Dammi un attimo. Torno subito. Oh no, sono tutta sola! Ok, sono qui. Sono preparata. Rinfreschiamoti un po'. Oh, ma che bel bambino! Oh, accidenti! Ecco qui, tuo figlio. Oh, mio Dio, sei uguale alla mamma. Il bambino sta per arrivare. Sembra che sia arrivato il momento, sì. Fammi controllare il bambino. Oh, che strano. Ok, sì. È arrivato il momento. Ascoltami bene, fai un bel respiro. Inspira e poi espira. Che cos'è successo? Oh, mi dispiace. Tranquilla, ti scongelo io. Credo che questo funzionerà. Ha funzionato, sei ritornata. Possiamo tornare a quello che stavamo facendo? Oh, certo, ricordati di respirare. Ecco qui, un bambino bellissimo. Prendilo. Oh, è il mio bellissimo bambino. Preferiresti essere calda o fredda? Faccelo sapere nei commenti e non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo. Ciao. 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 Grazie per la visione!